Buongiorno a tutti anche da parte mia, io sono Rodolfo Rotondo, sono in VMware da 12 anni e oggi ho un ruolo di advisor, quindi di capire un po' quali sono le iniziative di business dei nostri clienti, anche quindi nel settore pubblico e insomma dare un po' di avvisi su come la tecnologia effettivamente ci può aiutare a ottenere risultati. Oggi voglio fare un po' una breve introduzione su quello che facciamo in generale come framework sul public sector, di cui ovviamente il cloud è un elemento fondamentale, parlare di accelerare con questo servizio che si chiama appunto VMware Cloud su AWS la crescita digitale, non mi piace usare tanto la parola trasformazione digitale perché ormai il digitale dovrebbe essere quasi dato per scontato, possiamo soltanto accrescere il livello di digitale che abbiamo nelle nostre organizzazioni. Allora se vediamo un po' come dire veramente ad altissimo livello una strategia IT per il settore pubblico ci sono ovviamente macroelementi che ovviamente sono fatte di persone, sono fatte di piattaforme e infrastrutture, sono fatte di processi, tutti questi contribuiscono alla crescita digitale e ovviamente dal nostro punto di vista la cyber security, quindi la sicurezza delle infrastrutture, delle persone, insomma quindi che poi i processi funzionano nel modo giusto, ovviamente è fondamentale perché tutto questo sia coerente e appunto sicuro. E quindi in quest'ambito VMware ovviamente si occupa ovviamente di cloud, di integrare cloud e quindi poi andremo più nel dettaglio su questa parte di, diciamo di cloud ibrido, sostanzialmente stamattina lì è un po' citato, insomma è stato un po' citato l'approccio anche stamattina dal caso di Aria, l'approccio cloud ibrido per intenderci, ma si parla anche di modernizzazione dei data center, no? Quindi quando consolidiamo comunque cerchiamo di ottenere il più possibile, quindi di efficientare i costi il più possibile, in realtà io dico già di applicare un modello operativo cloud, perché cloud è sì una piattaforma, è un posto anche, no? Ho tanti posti dove poter far funzionare i nostri servizi, ma il cloud è anche un modello operativo che richiama anche al concetto delle persone e dei processi, devo saperlo usare e devo saperlo usare bene in modo sicuro. Quindi potremmo già cominciare a portarlo on premise, questa tipologia di modello operativo. Poi la parte insomma ovviamente di mobile e IoT e quindi poi di intelligenza artificiale a livello di supporto e di trasformazione della sicurezza, che ovviamente deve toccare tutti gli elementi di questa crescita digitale. Quindi la sicurezza deve essere quarente, sia che sia, che io sia su un cloud pubblico, su VMC, sia che sia nel mio data center, sia che sia nei miei utenti. Detto questo, riprendo anche io un pochino, noi ci siamo fatti fare un po' uno studio e molti di questi elementi sono già stati detti da IDC, nello specifico per VMC, per VMware Cloud su AWS, di quali potevano essere i casi d'uso per un mercato regolato, per vari mercati regolati, tra cui appunto la pubblica amministrazione, la parte governativa, ma anche poi le banche, eccetera, eccetera. Ovviamente la tendenza l'abbiamo vista nella parte, diciamo, del public sector sta andando ovviamente su utilizzare piattaforme cloud per portare innovazione, si parla anche di terza piattaforma. I driver l'abbiamo un pochino visti, quindi anche cambiare un modello, diciamo, di investimenti up front, andando su un modello di OPEX, quindi di consumo a livello di gestione della spesa, modernizzazione delle infrastrutture, standardizzare, semplificare e aumentare, diciamo, il livello di resilienza e di efficienza del servizio. Ci sono però anche delle barriere, non è, come dire, non è tutto facile, è immediato in effetti, in generale ci sono delle strategie, abbiamo la strategia dell'Italia, del paese, insomma, di cloud first, eccetera, eccetera, ma a mio avviso poi magari questa strategia e questa mindset non sempre si riflette nelle singole organizzazioni, questo un po' a livello generale, quindi anche qui un concetto di cultura e di modello operativo, di come cambiare il, diciamo, processi e organizzazioni per adottare un mondo, un mondo cloud. Anche qui disallinamenti magari sul modello di procurement si cambia, il modello di spesa cambia, quindi non è più, no, non faccio, il modo con cui faccio investimenti deve necessariamente cambiare, in questo modello di consumo, anche per prendere quei benefici che abbiamo detto, perché se no, se uso metodi vecchi con cose nuove, forse non riesco ad avere quei benefici, diciamo, tanto attesi, poi ovviamente ci sono degli scogli, dei barriere anche di infrastrutture diverse, di piattaforme differenti, di cose nuove che devo effettivamente gestire. E' chiaro che i casi d'uso che è di sì, prioritari, che è di sì, diciamo, vede in questa adozione di cloud, nella fattispecie di cloud ibrido, è ovviamente quello di fare le cose fatte meglio, è chiaro che se ho un'infrastruttura che è velocemente a disposizione per i miei servizi, non mi occupo, diciamo, della parte bassa, mi occupo solo della parte alta, ho più tempo, denari e risorse per poter portare innovazione, e si sentiva anche stamattina, insomma, nell'intervista che è stata fatta alla fine della sessione. Poi anche modernizzare le applicazioni, è fondamentale, no? Ci sono tante organizzazioni che hanno, ora si usa sempre questo termine, legacy, cosiddetto, comunque applicazioni che magari è difficile gestire, ci sono anche altri settori, pensiamo alle banche, no? Per esempio, che hanno veramente tantissimo, tantissimo legacy, dove poi alla fine, se l'80% delle transazioni continuano a passare su legacy, diventa poi complicato, qualcosa devo portare, devo modernizzare da questo punto di vista. Sicuramente il cloud mi facilita, perché ho un'infrastruttura che è sempre pronta a disposizione per, anche lì, eventualmente fallire, se devo fallire, ma fallisco velocemente, riduco i costi, no? Quindi provare a fare effettivamente le cose nuove, da una modernizzazione a creare delle applicazioni in modalità cloud nativo. La resilienza l'abbiamo già citato, e anche poi la parte, ovviamente, oggi i dati sono veramente tanti, abbiamo visto l'esempio prima da Raffaele, dove li metto tutte queste informazioni? Beh, il cloud con questo concetto di scalabilità virtualmente infinita, ovviamente vi permette di fare tutte queste cose. In realtà noi oggi parliamo di cloud, parliamo di intelligenza artificiale, parliamo ancora di mobile, eccetera. In realtà tutti questi temi sono temi di cui, parliamo da anni di queste cose, dell'intelligenza artificiale dagli anni 60, anche prima, no? Cloud da diversi anni, eccetera, eccetera. Quello che vediamo è che in realtà, perché ancora si continua a parlare di queste cose? Perché quello che vediamo è che oggi tutte queste forze tecnologici, driver tecnologici, in realtà capitano insieme. Quindi è la contemporaneità di tutte queste risorse che effettivamente possono supportare la crescita digitale, e quindi ci si trova, come dire, nella difficoltà di poterne usufruire. Ecco perché il cloud diventa effettivamente il collante per tutte queste nuove tecnologie. Quindi ho la piattaforma dove fare computing in modalità, vuol dire, virtualmente illimitata, ho i miei device, i miei oggetti, che mi generano tantissimi dati, li analizzo, c'era un po' la chart prima di Raffaele, li analizzo e quindi posso creare degli insight e creare meglio le mie applicazioni e così via. Quindi il cloud oggi ha senso perché effettivamente tutte queste cose le posso usare effettivamente insieme. Sfide, entrando un pochino più nel dettaglio del mondo cloud pubblico, ibrido, quindi l'abbiamo un po' dette, quindi ci sono cloud pubblici, cloud privati, si parla anche di edge computing in realtà. Oggi un po' di potenza computazionale sarà vicino alle cose connesse, ad esempio, quindi dipende un po' dai mercati, dai verticali, ma ci sono magari problemi di latenza, eccetera. No, quindi insomma la potenza computazionale effettivamente è distribuita in diverse aree, però quando appunto vado a mettere insieme questi mondi, ho, cosa mi trovo? Dei processi che non sono consistenti, prima facevo delle cose in un modo, oppure devo fare in un altro, e se devo mantenere due mondi, devo creare due silo? Due organizzazioni separate per gestire le cose, alla fine poi mi riduco i benefici. Ho un problema appunto quindi di, ho le persone che hanno, diciamo, gli skill, gli strumenti idonei per gestire due mondi o più mondi separati. Anche qui gli strumenti di sicurezza e le gestioni possono essere differenti. Quali sono i livelli di servizio attesi quando vado su una piattaforma diversa da quella che è un premise che magari non conosco? E comunque come faccio la migrazione? Perché magari alle volte ho dei modelli che non sono compatibili l'uno tra l'altro, quindi i miei servizi li devo in qualche modo trasformare per portarli a un'altra parte. Quindi tutti questi potrebbero, possono essere delle barriere nell'affrontare diverse tipologie di cloud. cloud, ovviamente arriva la soluzione in maniera molto semplice. Cosa abbiamo fatto due anni fa insieme ad Amazon Web Service come VMware? Molto semplicemente abbiamo portato in casa di Amazon la nostra piattaforma di cosiddetta software defined data center, quindi che è un'infrastruttura completamente virtualizzata in tutte le sue componenti, compute, storage, rete e sicurezza, che è la medesima che hanno l'80% dei nostri clienti in tutto il mondo. Quindi immaginate qual è il footprint oggi in un cloud privato della tecnologia e piattaforma VMware, abbiamo portato le medesime, diciamo, soluzioni utilizzando la scalabilità di Amazon Web Services, che è una piattaforma quindi che è gestita, è operata, è supportata fino alla parte di tutti i tool di gestione da parte, diciamo, da VMware, da noi stessi, quindi come il modello di sourcing rimane lo stesso sostanzialmente, concettualmente rispetto a un'infrastruttura on-premise, il cliente ovviamente è responsabile delle applicazioni che ci girano sopra, quindi delle varie macchine virtuali, servizi e così via. Molto semplice, quindi quello che ho in casa lo posso avere su Amazon Web Services, quindi tutto il ciclo di vita infrastrutturale, che ovviamente oggi comunque diventa costoso e soprattutto diventa costoso quando devo fare degli investimenti up front per gestire dei picchi e così via, devo gestire questo hardware, questo software, eccetera, eccetera, ci pensiamo noi all'interno delle infrastrutture di Amazon Web Services, e quindi si liberano delle risorse per fare cose, per fare innovazioni, per sviluppare nuove applicazioni e così via. Quindi un pochino più nel dettaglio di che cos'è VMware Cloud su AWS, quindi c'è, come dire, l'ambiente on-premise, quindi il data center on-premise è basato sulla parte di virtualizzazione, di software defined data center, eventualmente VMware, la stessa infrastruttura è sostanzialmente replicata nelle varie regioni, poi vediamo, ce ne sono veramente tante, poi malamanno che Amazon apre nuove regioni, ovviamente poi noi andiamo a crearle lì, attraverso un servizio puro di bare metal, non parliamo di, diciamo, di macchine, nestate, eccetera, eccetera, sono, è un servizio di, quindi Amazon ci dà l'hardware, sostanzialmente, e noi sopra ci mettiamo quello che serve per far funzionare la piattaforma, ok? Tra l'altro ci dà un hardware che noi possiamo istanziare on-demand, quindi un modello un po' diverso, no? Non aggiungo nuove macchine virtuali, nuovi servizi, ma aggiungo nuove potenze computazionali e questo viene fatto automaticamente on-demand, quindi la creazione di un nuovo host, cosiddetto, che mi serve per far funzionare le mie macchine virtuali, a seconda del carico, può essere fatto in maniera automatica, senza che il cliente debba andare a intervenire su qualsiasi tipologia di parametro. Questo però ovviamente è replicato sull'infrastruttura globale di Amazon e ovviamente potete bene immaginare che essendo già nell'infrastruttura nativa di Amazon, le macchine virtuali che saranno sulla parte di VMware Cloud, o sull'AppOS, sono vicine, sono proprio lì, rispetto anche ai servizi nativi di Amazon Web Services. Quindi c'è poi la possibilità di cominciare, di muoversi rapidamente verso il cloud e di iniziare a creare delle cose nuove, a utilizzare dei servizi nativi di Amazon anche con le applicazioni che noi già oggi abbiamo in casa, le abbiamo portate così com'è su VMware Cloud, su AWS, cominciamo a modernizzarle, cominciamo a utilizzare, ovviamente con latenze bassissime, perché siamo all'interno della stessa infrastruttura, con i servizi nativi di Amazon Web Services. se volessi veramente semplificare un piccolo giorno, una piccola, come dire, modalità di migrazione, per accedere veramente quasi istantaneamente ad una potenzialità estesa nel cloud, ovviamente in un data center ci sono le applicazioni, c'è l'infrastruttura di virtualizzazione, con tutta la sua parte di gestione, e poi c'è la parte di hardware, con il ciclo di vita dell'hardware. Abbiamo Amazon Web Services, spostiamo live, senza bisogno di fermare il servizio, quindi le macchine virtuali, quindi i nostri servizi, vengono migrati così come sono all'interno delle infrastrutture di Amazon Web Services, senza bisogno di fare nessuna tipologia di repratforming, viene fatto tutto in modalità live, quindi tutta quella parte del ciclo di vita dell'hardware, ovviamente ci pensiamo noi a farlo nella piattaforma di VMware Cloud o CNWS, e c'è un'interfaccia ovviamente dedicata all'elastic network interface di Amazon Web Services, che permette di avere un accesso diretto ai servizi nativi, e direttamente sostanzialmente al 90% dei servizi che sono i più usati all'interno dell'ecosistema di Amazon Web Services, senza tra l'altro una contabilizzazione del traffico all'interno, che ovviamente sapete benissimo che comunque la rete, il traffico entra tipicamente in un contesto di calcolo del TCO, per questa tipologia di traffico sono già su Amazon Web Services, non consumo, non vengo sostanzialmente, non c'è un charge per questa tipologia di traffico all'interno dell'infrastruttura, e quindi questo mi permette di sperimentare rapidamente cose nuove, senza avere la necessità anche di fare dei budget per capire poi alla fine come i miei dati verranno mossi, magari dall'on-premise direttamente verso Amazon Nativo. In questo caso ce l'ho diretto. Siamo partiti con delle region, appunto era un paio di anni fa, ora siamo veramente, praticamente dappertutto, avete già visto, diciamo, la chart stamattina nella keynote delle varie certificazioni di sicurezza, di SOC, di compliance, eccetera, eccetera, che ovviamente è anche, l'abbiamo anche noi in questo servizio che è totalmente gestito e venduto da noi, due anni nel mercato, quindi citavo appunto proprio di due anni fa, queste sono soltanto alcune KPI, oltre 200 nuove feature che sono state lanciate, 16 regioni, 41 zone di avviabilità, alcuni livelli di servizio, ecco per istanziare un nuovo host ci vogliono 12 minuti, per esempio, cioè proprio un server fisico che può ovviamente contenere decino o centinaia di macchine virtuali, e questo addirittura può essere fatto on demand. Immaginiamoci on premise, questa operazione ovviamente magari ci vuole, a parte devo avere fisicamente l'hardware, che magari se non ho fatto, se non ho un procurement, se non ce l'ho in casa devo aspettare ovviamente l'hardware, questo è fuori discussioni, ma quando poi ce l'ho lo devo fare stack, lo devo stackare, lo devo mettere in re, eccetera, eccetera, eccetera. Questo viene fatto su VMC in 12 minuti, quindi un nuovo host, 12 minuti, e scalo con i miei servizi, posso fare migration, vmotion, ovviamente all'interno, e questa cosa dicevo può anche essere fatta in automatica, cioè può essere impostata un livello per cui la mia infrastruttura a livello di insieme di hardware, che gestisce tutti i miei servizi, sta arrivando a un livello critico di consumo di risorse, io posso dire al sistema, perfetto, aggiungermi un nuovo host quando serve, e lui lo può fare automaticamente. Un intero SDDC on bare metal, cioè un intero software defined data center, viene fatto in 65 minuti, circa. Quindi come dire, tempo zero, 65 minuti, ho la mia prima infrastruttura di migrazione, il tempo di muovere le macchine virtuali, il tempo di trasferimento fisico dei bit dall'on-premise a VMC, e le macchine funzionano, in realtà funzionano anche in transit, quindi in realtà non ho downtime, ma sono là in poche ore volendo, Poi dipende dalla quantità di macchine che devo effettivamente spostare o migrare. Casi d'uso l'abbiamo un po' visti, però questi sono quelli che poi noi vediamo in realtà con le varie tipologie di clienti che abbiamo in tutto il mondo. Sicuramente l'estensione nel data center è uno dei primi casi d'uso, nel senso, magari all'inizio ci porta un po' di test and dev, o magari ci porta i virtual desktop, quindi la parte di VDI cosiddetta, anche questo è un caso d'uso che stiamo vedendo molto bene, e anche qui c'è un'integrazione con AWS sulla parte dei virtual desktop, o di app, o di applicazioni pubblicate, o per avere anche semplicemente dei picchi, quindi magari posso prendere un po' di risorse per un certo periodo di tempo e poi non le uso più. Posso fare disaster recovery, ovviamente, se il formato ovviamente è compatibile dei servizi, è un modo, non investo in facility per fare disaster recovery fisiche sul territorio, le faccio potenzialmente su tutte le region di Amazon che vogliono, quindi ovviamente aumento anche il livello di resilienza in questo contesto. Devo, ci sono casi in cui, chiudo il data center, e quindi proprio cloud migration, quindi proprio il data center viene svuotato e porto tutto, l'all in che si diceva, veramente in poco tempo, c'è un'organizzazione finanziaria dell'Unione degli Stati Uniti che veramente in pochi mesi ha portato migliaia e migliaia di macchie virtuali, ma parliamo di servizi critici del mondo finance, quindi migrazione live di oggetti che eseguono transazioni importanti, e poi come dicevo, sono in prossimità, sono vicino ai servizi nativi di Amazon Web Services, comincio a costruire le cose nuove, mi sono da una parte liberato di un fardello di gestione che mi occupa via tanto tempo, posso reinvestire quei denari, quelle risorse, quel tempo, lo skill delle mie persone per andare a sviluppare le cose nuove in prossimità con i servizi nativi di Amazon Web Services. Ovviamente la parte di migrazione, ci sono già degli strumenti che permettono di, poi è stato annunciato adesso ad agosto all'ultimo nostro VM Award, che ora poi ci sarà il prossimo, all'inizio di novembre a Barcellona, un enhancement su questa capability per fare mass migration, quindi migliaia di workload che possono essere immigrati in completa autonomia da parte del cliente, oppure possiamo supportare il cliente nell'andare ad analizzare facendo un piano di migrazione, andando proprio a mappare quali sono le applicazioni critiche, quali sono appunto le prime applicazioni da emigrare, quindi lavorare insieme a loro attraverso i nostri servizi. Quindi anche lì si può accompagnare alcune cose che si possono fare tranquillamente in autonomia. Quindi perché? Questa un po' l'avete già vista nella keynote, quindi alla fine cosa abbiamo pensato, cosa le nostre due aziende hanno pensato? Alla fine abbiamo preso quello che è il best of breed diciamo del cloud privato e del cloud pubblico. Abbiamo detto VMware oggi è nell'80% di workload in tutto il mondo. Amazon Web Services è il leader nel cloud pubblico e ha una presenza geografica immensa. Quindi perché non mettiamo insieme effettivamente una delle cose per facilitare questo primo step di passaggio verso questo modello operativo cloud, tra l'altro senza dover reimparare nuovi tool, come dire, le persone che devono fare cose nuove, perché il modello operativo nel quale io sono abituato diciamo a lavorare on premise, sarà lo stesso che io utilizzerò per lavorare su VMware Cloud e SNWS. Quindi anche lì non c'è un modello che cambia e quindi problemi sulle persone. Diamo soltanto nuova capacità, un'espansione, diciamo, e quindi è tutto veramente molto semplice e come dicono gli americani cost effective, no? Da questo punto, da questo punto di vista. E così cost effective, la voglio provare a, così siamo nei tempi. e chiudo, abbiamo fatto alcuni esempi, anche questo è un esempio fatto in casa, nel senso, con un'infrastruttura già VMware, quindi non di altre, con altre soluzioni, è sempre VMware su VMware Cloud SNWS. Questo ce l'ha fatto Forrester, questo studio, e in alcune condizioni ovviamente si può vedere che si possono risparmiare dei denari fino al 59% a livello di total cost of ownership, perché ovviamente l'infrastruttura on premise si la deve dimensionare per i picchi e poi con tutti i costi delle facility, delle persone, eccetera eccetera, qui ovviamente posso andare a ridurre molto i costi. Rispetto a migrare direttamente in cloud nativo, quindi magari dover far prima tutta un'attività di refactoring e alle volte chiedono anni di tempo e alle volte non sono mai completate e abbiamo visto anche delle cosiddette repatriation, cioè delle cose che tornano indietro, allora io intanto vado sul cloud senza modificare niente, ci vado, ci vado in mesi, tanto per essere realisti, se ho migliaia di macchine virtuali e poi con calma posso fare le mie attività di refactoring e di modernizzazione. Grazie, penso di essere rimasto in un'attività. Grazie.